ancora buon viaggio e ben trovati da Moversini Toscana e da Mauro Ciutini code sulla Firenze Pisa Livorno siamo allo svincolo di Lastra Signa in uscita provenendo da Firenze e c'è un veicolo in avaria tra Ginestra Fiorentina e Lastra in direzione anche qui di Firenze andiamo sulla 1 veicolo in avaria tra Firenze Scandici e Firenze in Pruneta la direzione quella per Roma e sempre in A1 ci sono code all'uscita di Firenze Sud provenendo da Bologna ci sono lavori sulla 12 la Genova Rosignano tra Pisa Centro e l'allacciamento con la 11 rallentamenti in direzione di Genova infine sulla Aurelia c'è ancora un senso unico alternato per lavori tra Colle Salvetti e l'incrocio Ortonovo bene è tutto grazie a Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze guardate con prudenza, a più tardi grazie a tutti